Dalla micromobilità per le strade del centro... È molto piccola, però è molto carina. Comoda forse in città? Eh sì, assolutamente. Ci sta quasi pensando? No. Alle auto completamente elettriche, passando per quelle cinesi. Mi fa un po' impressione l'invasione di marchi asiatici. Mi dà un po' da pensare sul futuro dell'automotive in questo paese. Lei in generale la prenderebbe un'auto elettrica adesso? No. Perché? Perché non ci sono sufficienti punti di ricarica. Sono un po' diffidente. Non mantiene, non garantisce i modelli attuali la percorrenza che io dovrei fare. Mi conviene ancora il benzina. Il Salone Auto di Torino è l'occasione per vedere dove va il settore. Se la destinazione non è chiara, la strada al momento sembra in salita con un calo generalizzato delle vendite. Stiamo parlando di un mercato che, a differenza del PIL, non ce la fa a tornare ai livelli normali. Credo è una delle poche industrie che ancora non ha recuperato i livelli pre-pandemia. Il dubbio è che questo sia un new normal. L'obiettivo è ripartire, come ha ribadito più volte il ministro di imprese made in Italy Urso, tornare al milione di auto prodotte in Italia. Di mezzo la sfida dell'elettrico. Difficile da vincere. Proprio alla vigilia del Salone Stellantis ha annunciato lo stop per un mese alla produzione delle 500 elettriche a Mirafiori, mentre si attende una decisione sulla realizzazione della Gigafactory a Termoli. Ma per i produttori la strada da percorrere è obbligata, vista anche la decisione dell'Unione Europea. Stop alla vendita di auto a motore termico dal 2035, nonostante le richieste del governo italiano. Se dobbiamo andare verso l'elettrico dobbiamo sicuramente ridurne i costi, renderlo più competitivo e farlo in maniera stabile, senza dover ricorrere necessariamente agli incentivi governativi. Gli incentivi servono in una fase di transizione iniziale, governo insieme a noi, poi dobbiamo arrivare strutturalmente a produrre un'auto elettrica allo stesso costo di un'auto termica. Questo è l'obiettivo che noi ci siamo dati e prevediamo di farlo entro il 2030. Rimane però sicuramente l'elettrico un tema che deve essere legato non solo ai produttori di auto che mettono sul mercato nuovi veicoli sempre più tecnologici, sempre con maggiore autonomia, sempre più performanti, ma è un discorso di sistema perché comunque ci deve essere tutto un sistema che ci corre dietro, che è quello dell'infrastruttura elettrica prima di tutto. Poi c'è un tema fondamentale, è inutile nascondere, c'è quello dell'incentivazione all'acquisto. L'altra sfida del futuro viene da Oriente, le auto cinesi in prima fila anche al Salone di Torino. Proprio nel giorno dell'inaugurazione il colosso Dongfeng ha aperto il primo concessionario nel paese e ha avviato le vendite in Italia. Abbiamo una decina di brand cinesi, segno che c'è un interesse forte da parte di queste aziende di entrare in Europa, di entrare in Italia, con vetture tra l'altro tutte molto innovative, elettriche, quindi sicuramente da prenderne atto. Dalle supercar alle utilitarie, i modelli di diverse case produttrici occupano un'ampia porzione di via Roma. Penso che sia un grosso cambiamento a livello di quello che hanno sempre rappresentato i cinesi. Oggi invece fanno dei prodotti che sono prodotti premium. Sì, per vedere questi cinesi che sono qua e ce ne sono a massa, per vedere come sono insomma. Dobbiamo aprirci alle novità. Devo dire che esteticamente sono belle, non so a livello di prestazioni. Il paese ha una posizione sempre più centrale nella geografia dell'auto e c'è chi in Italia ha da tempo scelto la via dell'accordo commerciale invece della concorrenza. Abbiamo dei rapporti ormai consolidati e storici con i principali produttori asiatici che sono i nostri fornitori, insieme ai quali sviluppiamo i nostri modelli partendo evidentemente da piattaforme già esistenti. Però nei nostri piani c'è un'evoluzione, tornare ad assemblare completamente in Italia utilizzando una parte della componentistica cinese ma il grosso della componentistica italiana. Una strada del dialogo per cui spinge anche il governo italiano, mentre l'Unione Europea conferma i dazi. La speranza di politica e produttori è che i giganti cinesi non si limitino a vendere ma scelgano di produrre in Italia, magari proprio a Torino. Possono trovare qui veramente quello che serve per costruire una vettura dalla A alla Z. Qui a Torino siamo in grado di fare dalle biciclette alle navacelle spaziali e agli aerei. Per un'azienda cinese secondo lei può essere conveniente produrre in questa zona? Assolutamente sì, in un contesto europeo. La zona di Torino ha un raggio di 100 km, tutto quello che serve a un grande player internazionale per creare una fabbrica anche manifatturiera qui nel nostro territorio. Da vedere se in futuro sulle auto cinesi ci sarà davvero scritto Made in Italy. Grazie. Grazie.